Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questo webinar Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale Sono Roberta Chiappe del Formez e vi introdurrò in questo webinar Come sapete questo è il secondo appuntamento di un ciclo di 11 seminari sulle competenze digitali che vi accompagneranno ogni martedì alle 12 da oggi, in realtà sono iniziati la settimana scorsa e vi accompagneremo sino al 28 luglio Quindi, giusto due parole per capire dove si inquadra questo seminario Come sapete il Silabo sulle competenze digitali è un documento redato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica che descrive l'insieme delle conoscenze e delle abilità minime che ogni dipendente pubblico, quindi non esperto ICT deve possedere per poter lavorare e per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione Obiettivo di questo ciclo di webinar è quindi esaminare, come dire, fornire un quadro in ogni webinar di una delle competenze del Silabus Le competenze del Silabus sono 11 e per questo sono 11 i webinar Cosa faremo quindi nell'ambito di questi webinar? Parleremo del contesto, dei contenuti, dei temi più importanti di ogni competenza e in più vi daremo alcune informazioni anche sulle fasi del progetto nel quale appunto questi webinar si inseriscono e su come funziona il sistema di assessment come infatti avrete già visto perché partecipato a diversi seminari in particolare a quello di martedì scorso il sistema prevede che a partire dal Silabus ci sia un assessment un'autovalutazione delle competenze digitali che sarà disponibile per tutti e poi in seguito all'assessment ci sarà una formazione gratuita e disponibile per tutti online sulle competenze digitali del Silabus quindi chiaramente ogni webinar sarà destinato, dedicato a una competenza digitale ma come avete visto la volta scorsa in un webinar non sarà possibile essere esaustivi rispetto a tutti i contenuti della competenza digitale in oggetto diciamo che il nostro obiettivo è un po' farvi capire in ogni seminario quali sono i temi principali di quella competenza farvi capire perché quella competenza è stata ritenuta utile ed è stata inserita nel Silabus farvi vedere anche in relazione alla competenza quali sono i temi considerati per diversi livelli di padronanza livello base, intermedio e avanzato e darvi anche qualche ulteriore informazione su come funziona il sistema di assessment al termine poi dell'intervento dell'esperto sulla competenza l'esperto ci fornirà anche alcuni link per l'approfondimento e per vedere ulteriori contenuti quindi diciamo che l'obiettivo dei webinar è un po' accompagnarvi ad essere un po' più preparati a cosa ci potrà essere nell'attività di assessment sapere qualcosa di più su queste competenze digitali quindi veniamo subito al seminario di oggi anche oggi parliamo di trasformazione digitale come la volta scorsa perché siamo sempre nell'area 5 però mentre la volta scorsa abbiamo inquadrato la trasformazione digitale parlato dei diritti digitali, della programmazione e della governa della transizione digitale in Italia oggi parleremo invece delle tecnologie emergenti per la trasformazione digitale vedremo che le tecnologie emergenti cosa sono? sono quelle del mondo nel quale già siamo e già ci troviamo diciamo che soprattutto in questo periodo di forzata quarantena ci siamo accorti molto dell'importanza, del ruolo che giocano le competenze digitali del fatto che ci offrano grandi opportunità in più per l'interazione, per l'attività quello che occorre è proprio riconoscere le potenzialità delle tecnologie digitali e capire che ci offrono nuove modalità di lavoro ed è questo che vedremo in particolare nel seminario di oggi passiamo al programma e ai relatori di oggi quindi il primo relatore, Donatella Romeo del Dipartimento della Funzione Pubblica che ci introduce il syllabus e le competenze digitali per un APA che cambia e ci racconta qualcosa anche del sistema di assessment daremo poi la parola a Nello Iacono, esperto di processi di innovazione che ci parlerà quindi in particolare con Nello entreremo a focalizzare le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale come vi dicevo prima, analizzandole anche in particolare nei tre diversi livelli di padronanza alcune comunicazioni di servizio prima di passare la parola ai relatori allora intanto di cosa parleremo quindi come vedete da qua questa è una mappa che serve anche un po' per farvi capire dove siamo e noi tratteremo le competenze digitali non, come avete visto abbiamo iniziato dalla competenza 5 quindi non inizieremo dall'area 1, 2, 3 abbiamo iniziato dall'area 5 abbiamo trattato la volta scorsa la competenza 5.1 e oggi siamo nella 5.2 conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale quindi alcune comunicazioni di servizio la volta scorsa avete fatto moltissime domande in chat le domande che riguardavano il sistema di assessment il sistema del syllabus quali sono le possibilità per partecipare come si aderisce, quali sono i tempi e le fasi previste dal progetto tutte queste informazioni le abbiamo riportate nelle FAQ presenti sul sito competenzedigitali.gov.it al termine del seminario vi farò vedere una slide dove sono riportati tutti i link utili quindi tutte le risposte sul sistema del syllabus le troverete lì mentre potete fare durante il seminario delle domande sui contenuti di quanto vi dirà nell'oiacono e al termine della presentazione di nell'oiacono ci sarà una breve sessione di domande e risposte come sempre la registrazione del seminario e le presentazioni saranno disponibili sulla pagina dell'evento quindi nella scheda di eventi PA a partire dalla quale vi siete iscritto e le presenze verranno attestate entro le 48 ore al termine di questa mia prima presentazione quindi darò la parola ai relatori questo box della chat nel quale tutti ci state salutando e vi abbiamo dato il benvenuto darà lo spazio a un box per le domande quindi non avrete più la chat nella quale scrivere anche i vostri saluti ma potrete scrivere le vostre domande per nell'oiacono e noi le riporteremo al relatore con questo do la parola a Donatella Romeo aspetto di vederla in video e poi mi taccio buongiorno a tutti io mi presento, sono del Dipartimento Funzione Pubblica e sono il dirigente responsabile del servizio Innovazione e Digitalizzazione che è titolare di questo progetto la volta scorsa avete avuto modo di conoscere il direttore generale che vi ha introdotto al nuovo mondo delle competenze digitali e al contributo che la funzione pubblica vuole offrire oggi invece cerchiamo di entrare un po' più in dettaglio e di raccontarvi qual è il percorso e perché stiamo facendo questo percorso chiaramente io spero che si veda, si senta bene ma potete trovare poi le registrazioni nel sito dedicato che è quello di competenze digitali di cui poi voi in una delle slide vi fornirò anche il link preciso che cosa sta succedendo? un po' Roberta Chieppa ve l'ha anticipato quella che è la nostra convinzione come Funzione Pubblica e come Ufficio Innovazione è che in un mondo che vuole cambiare che è quello della pubblica amministrazione è necessario che ogni provvedimento normativo sia adeguatamente accompagnato dalla competenza di chi poi materialmente questi provvedimenti li deve eseguire e purtroppo c'è un problema di fondo che quando si parla di pubblica amministrazione si tende ad immaginare che sia un universo eterogeneo invece non è così considerate che oggi gli iscritti sono 1.400 che sono presenti circa 800 amministrazioni e che in Italia le pubbliche amministrazioni sono oltre 12.000 con 3.200.000 dipendenti è un mondo diversissimo all'interno del quale noi dobbiamo trovare con questa determinazione e questa volontà che il Dipartimento sta mettendo un filo conduttore cioè la capacità di immaginare quali sono gli elementi di base che tutti i dipendenti pubblici devono conoscere qual è la cassetta degli attrezzi chiaramente le competenze digitali in questo caso ci aiutano perché è estremamente facile immaginare quali sono le conoscenze che il pubblico dipendente deve avere noi non stiamo facendo un corso sul digitale non è la patente europea del computer noi stiamo, e lo vedrete in questi webinar che ci accompagneranno fino a fine luglio abbiamo cercato di costruire con il syllabus una sorta di abecedario di quali sono le conoscenze digitali e le competenze intese come abilità che tutti i dipendenti pubblici devono avere per lavorare nel modo corretto e aiutare la pubblica amministrazione che vuole cambiare quindi questo progetto poggia su due pilastri fondamentali il primo pilastro è il syllabus cioè l'insieme di queste conoscenze differenziato lo vedremo fra un attimo per livelli il secondo pilastro è la misurazione di queste competenze in modo non da dover in qualche modo dare il voto ai dipendenti ma in modo da sapere che tipo di formazione dobbiamo realizzare per ciascun dipendente come se fosse una formazione su misura quindi non tutto per tutti ma esattamente quelle informazioni e quelle conoscenze e abilità di cui ha bisogno per completare il suo percorso formativo e le sue conoscenze il problema è come immaginare come immaginare non è stato semplice il syllabus è stato costruito con il supporto di altri esperti tra l'altro tra i migliori che sono disponibili in Italia in questo momento ma è un lavoro talmente delicato e complicato che abbiamo voluto aprirci a tutto il mondo della pubblica amministrazione e della società civile tant'è che è stato in consultazione per oltre tre mesi sono arrivate moltissime informazioni quindi il syllabus che voi avete oggi a disposizione che trovate esattamente su questo link le slide poi saranno disponibili nel nostro le renderanno disponibili sia Formez che sono soliti è un syllabus che è costruito tenendo conto di tutte le osservazioni che sono arrivate noi abbiamo bisogno di capire non in generale che cosa succede nel mondo digitale oggi nell'Oiacono che è uno dei maggiori esperti del settore che fra l'altro ha anche una qualità che è quella di non essere semplicemente uno studioso del fenomeno ma una persona che ha lavorato con la pubblica amministrazione e che lavora quindi che sa esattamente quali sono le difficoltà i percorsi spesso ad ostacoli che dobbiamo superare per portare avanti i procedimenti amministrativi quindi il syllabus è uno strumento che ci consente di lavorare direttamente sulle informazioni le abilità e le conoscenze che ci servono vedete come è strutturato noi abbiamo cinque livelli di competenza dati, informazioni e documenti informatici c'è tutto quello che ci serve da gestire queste informazioni per produrle conoscere gli open data la comunicazione la condivisione gli elementi di sicurezza i servizi online fino alla trasformazione digitale di cui parliamo oggi chiaramente vi sembrerà strano nel momento in cui andrete ad affrontare l'assessment trovarvi tante domande differenziate perché molte sono le conoscenze di cui abbiamo bisogno ma dovete capire bene che l'assessment che noi vi proponiamo è quello che poi vi condurrà al percorso formativo più adatto a voi cioè l'idea è non annoiamoli non obblichiamoli ad un percorso formativo che comprenda tutto l'insieme delle competenze digitali facciamogli delle formazioni su misura tant'è che l'assessment è poi organizzato su livelli il livello base il livello intermedio e il livello avanzato praticamente voi affronterete un sistema che vi darà in automatico alcune domande vedete non a caso c'è scritto da un minimo di 33 ad un massimo di 113 perché per ogni livello che si supera poi aumenta il numero di domande quindi se uno a livello base si fermerà alle 33 domande potrà arrivare fino al livello avanzato il tempo non vi deve preoccupare perché è sufficiente chiaramente è impegnativo perché significa che quando vi sederete a fare l'assessment voi dovrete avere a disposizione almeno 33 minuti per il numero minimo di domande ma che possono arrivare a oltre 113 minuti quindi capite bene che non è cioè dovete proprio prepararvi anche psicologicamente a seguire il percorso vi faccio l'esempio di quello che succede per esempio per le conoscenze e le tecnologie emergenti di cui vi parla oggi nello Iacono per superare il livello base occorrerà rispondere a due domande correttamente per passare dal livello base al livello intermedio le domande diventeranno altre quattro e poi cinque quindi vi potrete fermare direttamente al livello base oppure se risponderete correttamente potrete raggiungere i livelli successivi non ci aspettiamo non è normale che tutti siano al livello avanzato proprio perché si tratta di competenze diverse vi troverete normalmente naturalmente ad un livello avanzato in alcune competenze che possono essere quelle degli open data piuttosto che della sicurezza ad un livello base negli altri il nostro obiettivo chiaramente è mettervi nella condizione di colmare alcune informazioni che vi mancano e alcune in modo da migliorare alcune abilità quindi riepirogando questo mio intervento che cosa voleva raccontarvi voleva raccontarvi cosa sta facendo per voi funzione pubblica e cosa succederà precisando alcune informazioni chiaramente troverete tutto nel nostro sito ma l'adesione al progetto è un'adesione che riguarda la vostra amministrazione solo nel momento in cui l'amministrazione decide di aderire al progetto voi potrete affrontare il percorso di assessment e di formazione l'assessment fra l'altro ci consente anche di rispondere a quel bisogno dell'unione europea che ci contesta così come negli incontri che abbiamo avuto con il fondo monetario internazionale ci contesta sempre il fatto che siamo bravi come italiani a organizzare una serie di attività ma che poi non riusciamo a misurarle per bene invece in questo modo noi avremo un sistema di misurazione perfetto in questo momento noi abbiamo stiamo ancora vivendo la fase pilota con alcune amministrazioni che hanno aderito e ci hanno aiutato in particolare INPS E-mail e Union Camere che si è fatta carico di una parte del sistema camerale con alcuni piccoli comuni a partire da settembre verosimilmente apriremo a tutti ma a partire da settembre sarà anche disponibile la parte della formazione online quindi significa che terminato l'assessment voi potrete direttamente fare il percorso formativo quello che sta organizzando Formez che ringrazio è un percorso formativo che noi abbiamo commissionato e che è gratuito per tutti ciò non toglie che ogni amministrazione poi potrà liberamente aggiungere o sostituire a questi moduli formativi dei moduli formativi che riterrà più idonei o più adatti alle sue attività alle sue esigenze sempre nel rispetto di quella che è l'impostazione del data da noi attraverso il syllabus quindi io vi ringrazio e ovviamente noi siamo disponibili come funzione pubblica ad assistervi trovate sul nostro sito competenze digitali tutti i riferimenti potete scriverci e per l'adesione ovviamente vi ricordo che per l'adesione per le fac e per tutto quello che è necessario vi ricordo che i nostri interlocutori sono le vostre pubbliche amministrazioni grazie per l'attenzione e buon proseguimento ci accompagneremo e vi accompagneremo fino al 28 di luglio grazie perfetto grazie mille Donatella molto bene a questo punto darei la parola a Nello Iacono aspetto di vederlo aspetto di vederlo in video e poi gli passo la parola ecco Nello perfetto allora Nello Iacono è stato introdotto anche da Donatella Romeo esperto dei processi di innovazione lavora con la pubblica amministrazione e per la pubblica amministrazione da tempo vediamo cosa ci racconta a proposito delle tecnologie emergenti per la trasformazione digitale prego Nello grazie quello che cercheremo di fare è appunto come dicevano dicevano prima Roberta e Donatella non di esaurire l'argomento ma di diciamo discutere del perché è importante questa competenza perché è stata quindi inserita nel syllabus e come si sviluppa anche rispetto ai diversi livelli di padronanza che sono previsti all'interno del syllabus per cui ripercorreremo tutti i temi che riguardano appunto la competenza sulla conoscenza delle tecnologie emergenti andando a vedere come questo avviene in maniera diversa a seconda dei livelli prima di tutto quindi è importante condividere e discutere del perché ne stiamo parlando perché è stata introdotta all'interno del syllabus e prima ancora ma cosa intendiamo per tecnologie emergenti è normale pensare che quando si parla di tecnologia emergente si parla di qualcosa che è in divenire quindi non esistono tecnologie che saranno che sono emergenti sempre sono emergenti proprio perché hanno determinate caratteristiche in un momento particolare una definizione che troviamo del business dictionary è appunto quella per cui le tecnologie emergenti sono nuove tecnologie che sono attualmente in fase di sviluppo quindi in gran parte già le vediamo o che verranno sviluppate nei prossimi anni e che comunque avranno un impatto molto significativo non soltanto a livello economico ma anche a livello sociale nella vita quotidiana quindi sono delle tecnologie che probabilmente in gran parte già stanno producendo degli impatti notevoli l'altro tema è della crescita di impatto quindi una tecnologia emergente si contraddistingue proprio per il fatto che la velocità con cui produce questi impatti con cui si impone è molto elevata in particolare però noi parliamo di tecnologie emergenti che sono finalizzate e possono essere utili per la trasformazione digitale e quindi per la trasformazione in senso digitale di organizzazioni soprattutto e quindi della pubblica amministrazione e che vanno ad incidere in maniera abbastanza pervasiva su come anche i processi e i servizi devono essere realizzati utilizzando appieno l'integrazione delle tecnologie digitali quindi non stiamo parlando di tutte le tecnologie emergenti ma soltanto di quelle che riguardano la trasformazione digitale e diciamo il il tema è ben inserito all'interno del syllabus perché sono delle tecnologie in gran parte già presenti che noi già incontriamo che già noi utilizziamo nella vita quotidiana per le quali dobbiamo avere una consapevolezza sempre più elevata per poterle utilizzare al meglio per poter avere quindi un beneficio dal loro utilizzo e dal loro presenza e sapere dall'altra parte che se noi non riusciamo ad averne adeguata consapevolezza ovviamente con livelli diversi a secondo del tipo di lavoro che facciamo e quindi è giustificato appunto anche un livello di padronanza diciamo così sufficiente adeguato diverso a seconda del tipo di lavoro che facciamo noi se non acquisiamo questa consapevolezza rischiamo poi invece di avere dei problemi quindi limiti esclusioni in alcuni casi possiamo anche essere sopraffatti rispetto a interlocutori interni ed esterni rispetto al tema di queste tecnologie e ci rendiamo conto che quello che adesso noi pensiamo come normale come acquisito come anche l'utilizzo di internet in realtà risultava anni fa come tecnologie emergenti però se non ci si prepara per tempo poi il rischio è quello di non riuscire ad essere ad utilizzare e a entrare effettivamente nelle opportunità e nelle capacità delle nuove tecnologie e quindi diventa qualcosa che sicuramente dobbiamo acquisire allora nell'articolazione della competenza si è fatto una distinzione tra il tipo di appunto conoscenze che era necessario avere quindi pensando a un livello base in cui si richiede soprattutto un livello di consapevolezza delle tecnologie che sono già attive verso un livello intermedio avanzato come vedremo che invece richiede qualcosa in più una conoscenza anche un po' più specifica di come queste tecnologie possono essere utilizzate in generale e in particolare nella pubblica amministrazione il livello base quindi ci tocca ci tocca tutti tocca anche come cittadini proprio per il fatto che ci permette di acquisire la consapevolezza della tecnologia che è già intorno a noi e stiamo parlando di tecnologie che appunto vediamo e spesso utilizziamo ogni giorno parliamo dei sensori sia per controllare i battiti nell'attività motoria sia nella nostra auto che ci permette di azionare i tergicristalli immediatamente oppure a segnalarci che stiamo cambiando corsia abbiamo degli assistenti virtuali nei nostri pc negli smartphone e ci danno dei supporti nelle ad esempio nelle ricerche web sappiamo che nell'installazione sono stati installati contatori nelle nostre case che comunicano con le centrali fornendo delle informazioni e ricevendo a loro volta delle informazioni i sistemi di sorveglianza sono quasi tutti basati ormai come sappiamo su videocamere intelligenti che catturano i comportamenti sospetti diciamo così in modo tale da segnalarli a chi deve operare e questo soprattutto ovviamente sicuramente nei luoghi pubblici ma anche nei luoghi privati proprio per avere degli allerta per il controllo dei luoghi andiamo nei musei e troviamo sempre di più la possibilità di vedere in realtà virtuale gli ambienti come erano una volta e di poter vedere anche diverse epoche rispetto a certi ambienti con i loro arredi e di poter interagire con questi luoghi così come sappiamo che c'è un grande utilizzo di robot soprattutto lì dove ci sono delle missioni pericolose e quindi soprattutto nell'area appunto della sicurezza e quindi ci sono abbiamo visto anche in televisione molti robot artificieri che vanno a fare i lavori che sono molto pericolosi per gli anni tutto questo tutti queste tutte queste tecnologie hanno una necessità comune che è quella di poter comunicare attraverso la rete con applicazioni che le gestiscono e che permettono di scambiare dati tra loro appunto di allertare l'operatore piuttosto che allertare noi nel momento in cui magari c'è un sistema di intrusione che ci allerta perché qualcuno sta violando i confini nella nostra casa e quindi connessione connessione senza fili ovviamente in gran parte perché questo è utile proprio per permetterci di raggiungere i segnali che vengono da queste da queste applicazioni attraverso queste tecnologie e mobilità e l'ultimo un utilizzo della geolocalizzazione è importante la comunicazione tra tutti questi oggetti ci permette appunto di avere la possibilità di integrazioni tecnologie tecnologie specifiche in qualche modo intelligente diciamo così cioè che riescono a sossommare tra di loro le funzionalità per dare un risultato che da solo potrebbero non riuscirebbero a dare nel contesto d'ufficio ci sono delle tecnologie ovviamente un po' più stabili che ritroviamo e abbiamo a che fare con applicazioni in gran parte servizi che utilizziamo senza dover installare quindi utilizzando il cloud quindi il software in cloud quindi dei servizi e delle applicazioni che non risiedono su un server particolare su un computer che noi conosciamo e che noi abbiamo stabilito essere il luogo dove fare le elaborazioni così come abbiamo gli assistenti virtuali che non solo possono esserci utili non solo nella vita quotidiana ma anche in ufficio per le ricerche ma iniziano ad essere presenti in alcuni servizi ad esempio di call center per fare scremare una prima un primo livello di domande e permettere delle prime risposte più usuali più ripetitive in luogo turistico piuttosto che per dei servizi pubblici quindi il primo livello base ci permette di andare ad avere diciamo così la la padronanza sufficiente per un livello di consapevolezza sull'intermedio avanzato invece andiamo a vedere ancora di più le potenzialità delle tecnologie emergenti e nella scelta delle tecnologie emergenti per la trasformazione digitale che poi hanno un impatto anche sulla pubblica amministrazione sono state identificate queste che vedete nella nella slide abbiamo parlato di sensori quindi andiamo a parlare in generale del dell'internet delle cose quindi come gli oggetti possono comunicare tra di loro e darci delle informazioni vediamo a livello generale come tutte queste applicazioni possono essere fruite all'esterno in mobilità attraverso appunto il cloud computing quindi abbiamo fatto l'esempio delle applicazioni che già sono residenti sui nostri pc ad esempio per la posta elettronica e quello è un'altra delle tecnologie che si vanno ad esplorare soprattutto sul livello intermedio avanzato dall'internet delle cose e quindi dai dati dalle informazioni che forniscono gli oggetti abbiamo e anche da altre fonti abbiamo dei un volume di dati così consistente da non solo dover avere una tecnologia particolare per la gestione e per l'analisi ma ci permettono di acquisire degli elementi che possono portare a un addestramento migliore ad esempio degli assistenti virtuali di cui abbiamo parlato prima proprio per rispondere in maniera sempre migliore e quindi diciamo che tutti questi dati permettono di avere delle applicazioni che in qualche modo anche sono in grado di effettuare delle operazioni che richiedono delle elaborazioni dei ragionamenti e vanno ad agire soprattutto sul sull'internet delle cose quindi sugli oggetti e sappiamo che poi la nuova frontiera è quella di fare sì che ci siano ad esempio dei veicoli autonomi cosa di cui non parliamo nel dettaglio proprio perché ci concentriamo soprattutto su ciò che già c'è e già inizia ad essere utilizzato all'interno della pubblica amministrazione realtà virtuale e realtà aumentata sono due altri modi di utilizzare ancora di più le proprietà di connessione degli oggetti e quindi andiamo poi nei moduli relativi ai livelli intermedi ad avanzato a esplorare più in dettaglio queste tecnologie le tecnologie abbiamo visto nella slide precedente quindi la logica con cui le analizziamo è a livello intermedio capire bene qual è il significato e qual è il senso qual è l'articolazione e lo sviluppo della tecnologia quindi definirla in qualche modo averne consapevolezza e dall'altra parte capire perché si può utilizzare quali sono le opportunità e benefici da un lato dall'altro le possibili limitazioni che ci fanno comprendere quali sono i campi di applicazione migliori per la tecnologia perché poi la consapevolezza a livello intermedio è proprio quella di capire quali sono i limiti e le opportunità di una tecnologia per poterla utilizzare meglio che è poi l'obiettivo specifico invece del livello avanzato per il cloud computing in particolare viene fatta quindi una definizione per cui il cloud si definisce grazie al fatto che l'elaborazione può essere articolata e sviluppata su più risorse di calcolo quindi su più server su più su più macchine e quindi anche separando la parte di gestione dei dati da quella specifica di elaborazione e quindi distribuendolo in modo tale da avere massima efficienza perché si fa appunto per perché spesso la disponibilità di risorse di calcolo sempre più elevate permette di gestire i picchi che possono essere relativi a certe elaborazioni ma anche per permettere una maggiore accessibilità dal diciamo fissa e quindi in generale di avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo i rischi sono e quindi punti d'attenzione le limitazioni sono legate da un lato alla necessità ovviamente della connessione perché devo avere assicurato una certa connessione per poter avere il servizio e dall'altra parte questione di sicurezza perché ovviamente se mi sposto su una fruibilità mobile i miei dispositivi e anche il modo con cui trasmetto le informazioni e cui avvengono le elaborazioni deve essere certamente con un adeguato livello di sicurezza e poi ovviamente c'è il tema della gestione dei dati che come sappiamo ha dei risvolti particolari a secondo delle legislazioni ad esempio che possono essere diverse tra quelle europee e quelle extraeuropee dove si applica il primo diciamo la prima area dove sappiamo e utilizziamo già il cloud e quello della posta elettronica ma anche ovviamente tutto ciò che è relativo alla redazione e elaborazione dei documenti già ci vede pienamente già nell'utilizzo cosa guardiamo nel livello avanzato guardiamo l'utilizzo appunto nella pubblica amministrazione partendo ad esempio da quello che viene stabilito nel piano triennale che dà il cloud e l'APA come il paradigma da valutare prioritariamente per l'utilizzo dei servizi proprio per i benefici che questo comporta c'è un punto d'attenzione importante che viene sviluppato rispetto al tipo di organizzazione quindi la differenza tra cloud privato pubblico ibrido dove cloud privato significa che le macchine sono all'interno dell'organizzazione sono dell'organizzazione quindi la flessibilità viene raggiunta grazie al fatto che non ho un server dedicato ma posso avere più server su cui gestire le mie applicazioni pubblico invece significa appunto che non è all'interno dell'organizzazione ma è dato da un fornitore e ibrido invece in cui trovo una via di mezzo in cui probabilmente i dati li tengo all'interno della mia organizzazione perché li ritengo più delicati più critici e alcune elaborazioni invece li posso spostare verso un fornitore pubblico che mi dà di cloud pubblico e quindi diciamo dove la potenza di calcolo può essere più apprezzata minimizzando i rischi dove l'utilizzo che ne faccio del cloud ovviamente nell'applicazione d'ufficio per gli spazi di archiviazione questo è un argomento che viene sviluppato a livello avanzato un'altra tecnologia che viene presa in considerazione è ovviamente l'internet delle cose che in qualche modo come abbiamo visto un po' il nocciolo su cui si sviluppa tutto le potenzialità delle altre tecnologie emergenti che consideriamo e quindi partiamo anche qui nel livello intermedio dal definirlo e quindi definire l'internet delle cose come la possibilità di utilizzare la connessione tra gli oggetti grazie ai sensori che permettono di rilevare dei dati e di trasmetterli e quindi e anche dall'altra parte di essere gestiti da secondo applicazioni che appunto sono realizzate proprio per riuscire a utilizzare al meglio questi dati che vengono forniti dagli oggetti perché si utilizza perché appunto grazie a la connessione tra gli oggetti noi possiamo effettuare un monitoraggio ad esempio del qualità dell'aria piuttosto che della temperatura di un certo luogo possiamo però dall'altra parte agire e quindi ad esempio regolare il riscaldamento piuttosto che la corrente elettrica sapendo anche qui che la limitazione è data dal fatto che deve essere presente la connessione in maniera adeguata e dall'altra parte che possono esserci problemi di sicurezza perché la gestione degli oggetti deve essere effettuata garantendo il fatto che non possono esserci intrusioni nella nella gestione quindi quanto più mi sposto nella sofisticazione nella gestione dell'applicazione quanto più devo essere sicuro di poter garantire i gradi di sicurezza gli ambiti di applicazione che troviamo nella vita quotidiana sono quelli che abbiamo detto ci sono anche semacori intelligenti lampioni smart che quindi regolano la luminosità a secondo del traffico di persone che c'è intorno tutto il tema della domotica che appunto si basa proprio sul massimo utilizzo delle informazioni e della possibilità di gestione degli oggetti elettrodomestici piuttosto che appunto riscaldamenti nella PA gli ambiti di applicazione sono tanti e nel livello avanzato vengono sviluppati in particolare questi quindi tutto il tema cosiddetto della smart city quindi il come le tecnologie possono migliorare la qualità della vita e anche la gestione dei servizi all'interno di un territorio compreso ad esempio appunto il monitoraggio sui tombini ad esempio il riempimento dell'acqua anche qui con dei sensori che comunicano e da cui poi a livello di applicazione posso comandare anche certi comportamenti per evitare appunto il danno diciamo così nella della dell'allagamento così come posso andare anche ad allertare dei sistemi di controllo centrali che possono poi portare a degli interventi immediati da parte dei mezzi di soccorso tutto il tema della mobilità tra l'altro si parla in questo periodo del fatto che bisogna essere sicuri che non ci sia sovraffollamento anche nei mezzi pubblici e questo in qualche modo richiede la possibilità del controllo degli spostamenti controllo dei numeri dei passeggeri c'è tutto il tema ovviamente della della salute e anche nella logistica ci sono gestioni delle menze che possono essere realizzate grazie al fatto appunto che gli oggetti in qualche modo forniscono le informazioni anche sul sulla quantità e sugli spostamenti un'altra tecnologia fondamentale è quella dei big data e data analytics nel livello intermedio parliamo di cosa sono e del perché benefici e quali sono i punti d'attenzione li definiamo quindi i big data cosa sono sono una grande quantità di dati che hanno tre caratteristiche principali sono tanti volume sono molto varie fonti dati come vedete possono essere qualsiasi quindi dai dati dagli oggetti fino al documenti poste social media e così via ma veramente possono essere tantissime le fonti per i big data e poi la velocità nel senso che stiamo parlando di qualcosa che cambia e si aggiorna molto rapidamente questi dati possono essere analizzati grazie ai data analytics e questo ci permette anche di realizzare dei modelli di predizione cioè permette di capire quali possono essere i comportamenti di alcuni sistemi anche successivamente perché questo ci serve perché per riuscire a fare delle buone programmazioni e avendo tanti dati abbiamo la possibilità in questo caso di poterli analizzare e quindi trovare quali sono le logiche da accompagnare oppure da controllare nel futuro e questo è alla base appunto della programmazione e anche a livello di quantità piuttosto di servizi che devono essere realizzati sappiamo che anche in questo periodo il tema del riuscire a fare una buona programmazione nel futuro sulla base dei dati che ci sono è un tema su cui si sta lavorando in questo periodo la programmazione del servizio sanitario in generale sulla base dei dati che si sono accumulati e che si stanno accumulando diventa una cosa fondamentale dall'altra parte i big data ci permettono di addestrare meglio il comportamento delle applicazioni di intelligenza artificiale che appunto hanno bisogno per poter supportare il lavoro umano o addirittura per svolgere delle attività autonome di avere una buona base di dati per capire come ci si comporta nelle varie situazioni l'assistente virtuale più conosce le nostre abitudini e meglio riesce ad accompagnarci e questo quindi è alla base del raffinamento del comportamento delle applicazioni di intelligenza artificiale punti di attenzione ce ne sono come in tutte le tecnologie e sono date dal fatto che ovviamente se la definizione l'identificazione delle fonti è fondamentale e deve essere pienamente consapevole per sapere poi quali sono i dati e qual è l'attendibilità l'affidabilità e quindi dei dati che ne escono fuori proprio per capire come trattarli e come gestirli al meglio e poi ovviamente c'è da gestire anche la qualità la variabilità generale dei dati di cui stiamo parlando cosa utilizziamo nella pubblica amministrazione e qui nella pubblica amministrazione abbiamo tanti dati tanti campi in realtà nel momento in cui dobbiamo programmare un servizio sul territorio ma anche in generale rispetto a fenomeni complessi e la pubblica amministrazione avere una base dati molto ampia ci permette di fondare la nostra programmazione su elementi sempre più importanti sempre più utili per il consolidamento della nostra decisione in particolare questo viene maggiormente in evidenza se parliamo di sanità ripeto lo stiamo vedendo adesso e comunque c'è già un utilizzo rispetto anche all'identificazione di diagnosi e cura anche personalizzata per la singola persona oltre che per gestire il fenomeno in generale epidemico per la mobilità è la gestione del traffico proprio perché una buona gestione della mobilità sia a livello di semaforistica sia a livello di appunto identificazione degli itinerari dei mezzi pubblici si basa sul fatto che effettivamente si conosca molto bene il comportamento degli utenti quindi i big data sono fondamentali perché altrimenti bisognerebbe sempre ricorrere a sondaggi per capire i comportamenti big data per la sicurezza ovviamente è fondamentale anche qui per riuscire a capire meglio quali sono i segnali deboli diciamo così che poi portano a invece ai danni a degli eventi effettivamente pericolosi quindi la prevenzione si basa molto sull'analisi di data nella panoramica delle tecnologie emergenti sicuramente trovano un posto sia la realtà aumentata che la realtà virtuale proprio perché hanno sicuramente un aspetto anche ludico soprattutto la realtà virtuale però hanno degli aspetti molto importanti sia dal punto di vista culturale e turistico sia anche dal punto di vista della formazione la realtà aumentata viene definita sul cosa cos'è quindi si va dal più semplice visione dell'oggetto con tutte le informazioni che può avere associate e quindi anche soltanto inquadrandolo oppure come si faceva qualche anno fa attraverso la lettura del QR code e questo dove troviamo dove troviamo applicazione sicuramente nei musei nella manutenzione perché io inquadro l'oggetto e posso andare a vedere quali sono non solo le qualità dell'oggetto ma anche le schede di manutenzione associate nella realtà virtuale questo è importante perché posso fare delle sperimentazioni come se fossi effettivamente all'interno di un luogo e questo è importante non soltanto dal punto di vista turistico ovviamente e culturale e quindi di formazione da quel punto di vista ma anche nell'addestramento proprio perché riesco a fare delle operazioni pratiche che altrimenti dovrei fare con l'oggetto in cui con cui mi confronto l'altra tecnologia che viene sviluppata all'interno di questa competenza è quella dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo già parlato qui sempre a livello intermedio si definisce cos'è e quindi si definisce come appunto rispetto al tipo di intervento che può avere un'applicazione di intelligenza artificiale rispetto a un contesto e quindi può essere o di assistenza di supporto come appunto l'assistente virtuale oppure può essere anche autonomo e l'autonomia può essere anche semplicemente la risposta a un in un call center oppure qualcosa di più complesso come appunto la gestione di un'attività come può essere in prospettiva appunto la guida autonoma perché ne parliamo perché è importante perché appunto permette di assisterci in alcuni compiti ci può sollevare da lavori ripetitivi che hanno bisogno di una certa elaborazione però in qualche modo possono essere basati sui comportamenti precedenti e possono anche entrare in alcune situazioni in cui tutto sommato è molto pericoloso andare ad operare oppure semplicemente per allertarci nel momento in cui succede qualcosa per cui dobbiamo intervenire il tema ovviamente è anche qui è quello della limitazione o comunque del consapevolezza del contesto in cui un'applicazione di intelligenza artificiale deve svilupparsi sapete che ci sono dei temi intorno anche ai pericoli e rischi delle applicazioni di intelligenza artificiale ma sostanzialmente quello che si andrà a vedere è che tipo di accortezze dobbiamo mettere in piedi per riuscire effettivamente a far sì che non ci siano decisioni delegate all'applicazione che non siano motivabili motivate e che non possano portare a danni dove si applica in generale l'abbiamo detto nell'area della pubblica amministrazione e gli usi già attuali e più ricorrenti sono ripeto sul fronte della delle cosiddette chatbot quindi nelle risposte a anche il linguaggio naturale a cittadini che chiedono come devono come far funzionare come operare rispetto a un servizio così come per un turista sul sugli spostamenti su come raggiungere una certa località oppure cosa trovare in quel in quel luogo da esplorare rispetto alle proprie caratteristiche così come i sistemi telemonitoraggio ovviamente la sanità ha un focus particolare e può essere ben supportata da applicazioni di intelligenza artificiale così come in generale la gestione dei processi dei dati che è qualcosa che pian piano può venire ma che inizia ad avere delle applicazioni a livello dei sistemi documentali e poi ovviamente tutto il controllo di legalità e sicurezza che sono fondamentali chiudiamo con l'ultima tecnologia che viene trattata all'interno della competenza e appunto per la sua diciamo così ancora iniziale e il suo ancora iniziale sviluppo viene trattata soltanto a livello avanzato stiamo parlando della blockchain e anche qui sempre questa volta sempre a livello avanzato si tratta sia dal punto di vista del spiegazione del cos'è e dei suoi benefici e dall'altra parte anche dai suoi utilizzi il cos'è è diciamo così una modalità che permette di avere una gestione di processi e di quindi anche attuazione di certi criteri decisionali in modo distribuito quindi non c'è un unico centro di decisione ma la decisione viene ripartita all'interno di quelli che sono chiamati di quelli dei nodi quindi della catena dei blocchi che costituisce la blockchain e il risultato è un risultato che in qualche modo è il frutto di una condivisione dei nodi di questa di questa catena e quindi non soltanto di un di un centro appunto di elaborazione decisionale questo permette di far sì che le decisioni appunto non possano essere alterabili e dall'altra parte che una volta prese delle decisioni quindi una volta aver deciso se una certa transazione un certo quindi intervento una certa decisione deve avvenire o meno una volta definita quella cosa non può essere più alterata quindi va benissimo lì dove voglio avere massima trasparenza e protezione da alterazioni ovviamente è una tecnologia che deve essere utilizzata solo in queste condizioni e in questo contesto perché diciamo in non è una panacea è una tecnologia che serve per qualsiasi contesto e quindi bisogna utilizzarla nel contesto corretto per la pubblica amministrazione e quindi per un un'organizzazione come questa il i campi di applicazione che su cui si sta lavorando e che già vedono degli esempi sono da un lato gli smart contract e dall'altro quello che viene chiamato notarizzazione quindi da un lato un focus sul processo e sui criteri di decisione quindi io lo utilizzo lì dove voglio che sia diciamo così inalterabile inattaccabile il modo con cui si è arrivato a allocare fondi fare una selezione di gare di concorsi quindi dove mi interessa che tutto sia molto ben schermato e non ci possano essere delle alterazioni rispetto al criterio che avevo definito prima notarizzazione invece lì dove voglio che siano assolutamente immutabili e non alterabili invece delle graduatorie e dei registri e quindi che mi permettono di avere sicurezza sul fatto che questo effettivamente avvenga e dall'altra parte posso darne altrettanta trasparenza ai cittadini agli utenti del servizio nelle ultime tre slide vedete ho finito il tempo però brevemente vi scorro sulle risorse da approfondire vedete alcuni spunti in alcuni casi ci sono dei temi che sono che hanno diverse risorse altre un po' meno proprio perché anche il livello di sviluppo e di maturità è diverso vedete alcuni spunti sul tema generale delle tecnologie emergenti soprattutto rispetto al ministero dello sviluppo economico che ha lanciato dei progetti sia per la realizzazione di case di tecnologie emergenti sia di progetti su questo fronte sul cloud computing c'è maggiore maturità e quindi trovate non soltanto sul piano triennale gli indirizzi e le definizioni ma anche sul un documento compiuto per il modello cloud dell'EPA sull'intelligenza artificiale c'è molto movimento c'è molta ci sono molte attività che sono state compiute anche se ancora non si è tirato diciamo così la fila completamente sia a livello di Agid sia a livello di Ministero di Sviluppo Economico sono state realizzate già dei documenti e anche questo sulla base delle politiche europee e in sviluppo un corso sono stati realizzati dall'Università di Helsinki della società Reactor dei corsi per introdurre l'intelligenza artificiale a livelli diversi e in questo momento ancora la traduzione in italiano non c'è ma sarà a breve disponibile lo trovate comunque in inglese già disponibile sull'internet e le cose vale in questo momento il quadro della politica europea su Big Data e Data Analytics vi consiglio questo documento molto ben scritto del 2016 di un gruppo di lavoro del Ministero dell'Istruzione sulla blockchain diciamo c'è un primo livello di raccomandazioni europee che trovate in questo link da parte di agil grazie per l'attenzione ho sforato un pochettino non so se ci sono domande perfetto eccomi grazie anello sei stato sì hai sforato qualche minuto ma per carità occorreva assolutamente dedicare un po' di tempo sei stato estremamente chiaro come vi dicevo all'inizio del seminario questo non può essere l'occasione per dare tutte le risposte o per analizzare nel dettaglio tutti i contenuti però ci hai fornito degli spunti abbiamo fatto una sorta di spoiler come diceva la volta scorsa Ernesto Belisario uno spoiler di questa competenza speriamo di avervi fatto venire un po' di curiosità e comunque in coda alle slide di Nello che troverete pubblicate nella scheda di 20PA ci sono anche come avete visto adesso tutti i link per ulteriori approfondimenti allora Nello ci sono state alcune domande per te quindi adesso io tu non le visualizzi te le te le porro io erano chiaramente relative al momento in cui stavi parlando ci chiedono ad esempio quali sono le differenze a livello di sicurezza tra cloud e VPN ovviamente la VPN è una connessione dedicata il cloud è il modo con cui io posso arrivare a utilizzare i servizi quindi il tema del cloud computing è appunto il fatto che io non ho bisogno di una connessione dedicata per poter utilizzare i servizi e quindi dal punto di vista della sicurezza ovviamente è molto più flessibile mi dà la possibilità di utilizzarlo in mobilità e in contesti diversi dal punto di vista della sicurezza devo fare in modo che la mia accreditamento la mia credenziale quindi il modo con cui mi connetto mi permette effettivamente di garantire che possa essere solo io e dall'altra parte invece le applicazioni devono avere il loro sistema di controllo degli accessi che appunto permette di non avere intrusioni da altre parti che non siano accreditate adeguatamente perfetto e c'è anche allora quest'altra collegata chiedono in parte già risposto sono giustificate alcune titubanze da parte di colleghi sull'uso del cloud per una questione di sicurezza informatica bisogna di vedere diciamo così dall'altra parte quando parliamo di cloud rispetto a quali applicazioni stiamo trattando e quindi qual è il dialogo che stiamo intrattenendo ovviamente se noi andiamo su un cloud che è gestito da un fornitore che non gestisce adeguatamente le procedure di sicurezza ci possiamo ritrovare come è successo sappiamo e abbiamo letto anche sull'utilizzo della videoconferenza zoom in cui c'era la possibilità di entrare nelle stanze o di addirittura cambiare le stanze senza che appunto chi aveva prenotato potesse fare alcunché quindi bisogna vedere come sono sviluppate le applicazioni che gestiscono i servizi a cui noi cerchiamo di accedere quindi anche nella vita quotidiana dobbiamo ben capire dall'altra parte se abbiamo dei fornitori e dei servizi affidabili e quindi da questo punto di vista anche capire e sapere attraverso le informazioni che ci sono sicuramente in rete oppure che possiamo meglio reperire da fonti affidabili sapere se appunto ci sono problemi nell'utilizzo dei vari servizi perfetto un'altra collegata anche questa hai già risposto direi chiedevano se il cloud garantisce la privacy l'autenticità dei documenti e in che misura si può intervenire come risorsa di rete quindi se garantisce la privacy l'autenticità dei documenti il cloud in sé in generale non garantisce nulla bisogna vedere i fornitori dei servizi a cui accediamo attraverso il cloud se appunto gestiscono adeguatamente sicurezza privacy e tutto il resto quindi in alcuni casi anche se gestiscono bene i picchi di elaborazione quindi non per forza se un'applicazione è utilizzabile in cloud significa che davvero il cloud lì è utilizzato al meglio quindi è una tecnologia abilitante però poi sono i servizi che noi utilizziamo e quindi prima di utilizzarli dobbiamo vedere se effettivamente sono affidabili quindi a secondo del tipo di utilizzo l'analisi preliminare sarà fatta in maniera più o meno approfondita però dipende dal servizio perfetto grazie Anello direi che con le domande sul contenuto del tuo intervento ci siamo allora io ecco allora rispondo ad alcune domande proprio al volo perché riguardano il syllabus il progetto alcune cose vi ho detto per tutte le domande sul syllabus potete far riferimento alla sezione FAC che vedete qua su questa slide competenzedigitali.gov.it slash serve aiuto le FAC e il servizio di helpdesk però qualcuno chiedeva ad esempio se l'adesione al progetto è gratuita io devo assolutamente rispondere perché è gratuita mi sembra un'informazione di massima che vada data l'altra cosa importante è che l'adesione al progetto è della pubblica amministrazione e non dei singoli questo lo hanno chiesto diverse persone hanno chiesto quindi come fare se le pubbliche amministrazioni insomma voi dovete fare riferimento alla vostra amministrazione l'adesione è da parte della pubblica amministrazione mi pare che queste fossero le domande principali non so chiedo a Donatella Romeo del Dipartimento è la funzione pubblica Donatella vuoi integrare o rimandiamo direttamente alla sezione delle fac non ti sentiamo Donatella no non ti sentiamo ho paura che ci sia un problema col microfono comunque abbiamo detto che per tutte le domande sul sistema sull'adesione sui tempi vi rimandiamo alla sezione delle fac che noi aggiorniamo di volta in volta Donatella non ti sentiamo ancora non ti sentiamo va bene allora le ultime comunicazioni che volevo darvi sono queste vi diamo appuntamento al prossimo seminario martedì prossimo alle 12 entreremo nell'area comunicazione che è questa l'area 2 che vedete qua in questa mappa e parleremo di comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione come sempre tra qualche giorno sarà disponibile la scheda su eventi a partire dalla quale potete iscrivervi un'altra domanda molto ricorrente è se l'iscrizione e l'attestazione della presenza siano per singolo webinar o per tutto il ciclo e la risposta è che sono per singolo webinar quindi vi dovete iscrivere a ciascun webinar e riceverete l'attestazione della presenza se avete partecipato a ciascun webinar l'attestazione delle presenze dentro 48 ore prego Donatella sì forse adesso si sente intanto volevo ringraziare i partecipanti che sono stati numerosissimi ricordare che purtroppo non abbiamo un'aula che ha una capienza limitata enorme ma comunque limitata quindi prenotatevi subito e ricordatevi che è importante seguire tutto il ciclo dei webinar perché è l'unica garanzia che noi vi possiamo fornire in questo momento per accompagnarvi all'assessment per le amministrazioni che vorranno aderire al termine del ciclo metteremo sul nostro sito che è quello di competenzedigitali.gov.it anche il format per l'adesione il modulo da inviare e tutto quello che è disponibile e necessario fare lo troverete sul sito inclusa la sezione molto rica di FAC Perfetto grazie molte Donatella allora con questo possiamo chiudere ringrazio i relatori di oggi ringrazio i partecipanti abbiamo raggiunto i 980 partecipanti quindi direi che eravamo molto numerosi ma come sempre potete riascoltare la registrazione arrivederci a tutti a martedì prossimo buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti